Le puntate della promessa sono sempre più attese. I telespettatori sono ormai entrati nel vivo delle dinamiche tra Jana, Jimena e Manuel. Sono diverse le sop che in quest'anno televisivo, hanno catturato l'attenzione del pubblico. Di sicuro la promessa fa parte di una di queste. La serie spagnola è riuscita in questi mesi, ad incollare i fan al piccolo schermo. Una storia intrecciata, fatta di rivelazioni e colpi di scena appassionanti. Manuel e Jana sono la coppia più amata in assoluto. I due non riescono a stare lontani ma allo stesso tempo, stare insieme è complicatissimo. Nella loro relazione si intromettono troppi ostacoli, uno in particolare è rappresentato da Jimena. Quest'ultima non riesce proprio a farsi da parte. La promessa, Manuel prende una decisione definitiva. Nelle puntate precedenti abbiamo assistito a molte svolte e dinamiche sorprendenti. Jana e Manuel, dopo un periodo di forte tensione, hanno deciso di scappare da tutti per dedicarsi una giornata insieme. I due sono andati su una spiaggia deserta, dove finalmente si sono lasciati andare a momenti dolcissimi. Jimena è sempre più disperata. La moglie di Manuel ha attuato molteplici strategie, tutto pur di avere il marito tutto per sé. Questo ha causato non poche sofferenze in Jana, la cuoca si è spesso allontanata proprio per questo motivo. L'amore verso Manuel è però più forte di tutto, i due non riescono proprio a stare separati. Ma arriviamo al dunque, cosa succederà nella puntata di domani? Al centro delle dinamiche Manuel e Jimena. I due sono sempre più distanti, e il bel protagonista non ha alcuna intenzione di ricucire il rapporto con la moglie. Dopo la giornata trascorsa con Jana sulla spiaggia, il suo cuore e la sua mente sono solo rivolti alla cuoca. Mercedes proporrà a Manuel di trasferirsi con Jimena nel loro palazzo, ma lui rifiuterà categoricamente. Andare a vivere con la moglie significherebbe alimentare speranze per lei ed elusioni per Jana. Quest'ultima confiderà a Maria della meravigliosa fuga fatta con Manuel. I due protagonisti hanno capito di amarsi follemente. Riusciranno a trovare la chiave giusta per poter essere felici insieme? La situazione è molto complicata. La madre di Manuel è dalla parte di Jimena, e questo non fa che ostacolare ulteriormente la coppia. Il successo della soap spagnola è irrefrenabile. In onda da diversi mesi su Canale 5, è riuscita ad appassionare milioni di persone. Non ci sono dubbi, la promessa è attesa anche dopo la fine dell'estate, con nuove e coinvolgenti puntate. Ma ci saranno tutti i protagonisti? Questa è da sempre la preoccupazione del pubblico. Affezionarsi ad un racconto e perdere poi per strada, i vari attori. Per il momento però, godiamoci le puntate in onda su Canale 5.